Sono l'ingegner Gambuzzi, Augusto, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Modena. Siamo presenti a questa settimana del BioEcoLab come Ordine degli Ingegneri con le nostre commissioni ambiente ed impianti ed energia. Le tematiche affrontate sono estremamente importanti e coinvolgono a tutto campo la nostra professionalità di ingegneri e speriamo servono anche per dare un notevole contributo nella ricostruzione post-sisma che ci offre l'opportunità di adeguare gli edifici con queste normative sul contenimento dei disperdimenti energetici.